il corso sta andando alla grandissima quindi i ragazzi stanno arrivando siamo veramente contenti perché l'orario dal 1 alle 4 è un orario difficile però io purtroppo no purtroppo l'ho sempre detto combatterò fino ai 40 anni quindi la mattina mi alleno io e la sera mi alleno io quindi ho scelto questo orario in modo che queste ore le passiamo tutti i giorni insieme poi un'altra novità la novità è per gli istruttori quindi che stanno facendo il corso aspiranti istruttori chiamate Samuele che il DVD è pronto quindi per tutti gli aspiranti istruttori il vostro DVD è pronto chiamate Samuele e vi spiegherà il tutto e l'altra cosa importante sono troppo contento Claudio dalla Certosus ha fatto i kit quindi niente entrate nel sito lacertosus.it e guardate già i kit gli avvenamenti che ha fatto sono veramente perfetti perché sono proprio le attrezzi che uso io che usiamo noi in sport da combattimento anche in America perfetto prezzo, qualità e prezzo è ottimo anzi mi sa che è esagerato perché ha abbassato tantissimo i prezzi soprattutto riguardando sa che bulgare e kettlebell insieme quindi niente ci sono dieci pacchetti come tutti consiglio Hercules il pacchetto che è più caro però con quel pacchetto state bene con tutta la palestra altro che altre attrezzature quindi alessiosagara.tv balacertosus tutti i pacchetti che potete vedere sul sito e presto li acquisterete anche tramite il mio sito e vedeteci a trovare qui alla Vittori via Bartolino da Novara numero 48 me lo sono imparato a memoria il numero civico, il primo non mi ricordavo e da l'1 alle 4 tutti i giorni è Alessio Sagara il legionario settimo non mi ricordavo che provano non mi ricordavo non mi ricordavo non mi ricordavo ma non mi ricordavo Grazie.